Sono qui per presentarti il nuovo corso dell'Università Popolare del Sociale dedicato al marketing nel mondo olistico e per i consulenti. Ho pensato questo corso per persone come noi che lavorano in ambito olistico della consulenza e che hanno bisogno di strumenti specifici di marketing per poterci aprire e lanciare nel mondo del web, dei social, per poterci far conoscere, per far conoscere soprattutto quella che è la nostra missione, la nostra attività, quello che noi vogliamo dare agli altri. All'interno di questo corso troverai 16 lezioni e diversi video, circa 7 ore di video, dove apprenderai a creare il tuo brand, a creare la tua newsletter, il tuo blog, pubblicizzarti nei social, a trovare nuovi clienti e tanto tanto altro. Inoltre avrai la possibilità di tre incontri live in webinar con me e con i tuoi compagni per creare insieme la mission, la vision, il tuo brand, per lavorare insieme. Potrai inoltre far parte di una community esclusiva di persone che appunto come te e come me hanno bisogno del marketing per poter pubblicizzare le loro attività. In questa community che si chiama marketing holistico potrai rimanere a vita anche dopo aver preso l'attestato. Inoltre, dato la tipologia della materia, il marketing, appunto, questo corso verrà continuamente aggiornato. Quindi potrai rimanere iscritto e vedere sempre tutti gli aggiornamenti. Ti aspetto su www.universitadelsociale.org. Il titolo del corso è Verso la prosperità, marketing per chi lavora nel mondo holistico e della consulenza. Il titolo del corso è... Il titolo del corso è rispetto alle amm kinanno